Il FESR sono fondi europei per lo sviluppo regionale rivolti all'aumento della coesione sociale ed economica delle regioni europee attraverso lo sviluppo sostenibile. Il piano operativo FESR della provincia autonoma di Trento, della PAT, che comprende gli anni dal 2014 al 2020, prevede di investire 108 milioni grazie a questo strumento. Un po' più della metà di questi fondi vengono investiti per sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca e di trasferimento tecnologico. FBK ha partecipato a questo bando con un progetto di 8 milioni intitolato Key Enabling Technologies in Trento. Si tratta di un bando volto a mettere a disposizione della ricerca e dell'innovazione trentina le Key Enabling Technologies, CAT, che sono un gruppo di tecnologie individuate nell'Unione Europea come elementi essenziali per la produzione industriale del futuro. Queste tecnologie sono le nanotecnologie, la nano e microelettronica, la fotonica, i nuovi materiali e le biotecnologie. È estremamente importante per rimanere al passo con la crescita e lo sviluppo sostenibile ed industriale l'accesso a queste tecnologie sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista dell'innovazione, quindi con un trasferimento verso l'industria di nuove tecnologie materiali. Gli investimenti promessi dal FESRA ci consentono di migliorare le possibilità tecnologiche all'interno della Clean Room in modo importante soprattutto dal punto di vista delle nanotecnologie. Se adesso in Clean Room siamo capaci di strutturare dispositivi, sensori, con risoluzioni che corrispondono a poco meno di un micron, cioè un milionesimo di metro, grazie a questi investimenti permessi dal FESRA potremo andare a disegnare strutture funzionali sui nostri dispositivi corrispondenti a circa 10 nanometri, quindi 10 miliardesimi di metro, con conseguenze estremamente importanti rispetto alla loro funzionalità, un aumento considerevole di sensibilità, un aumento considerevole di performance. Le Clean Room di FBK costituiscono un'unicità sul panorama nazionale e con pochi equivalenti anche sul panorama internazionale. Quest'unicità discende dal fatto che noi abbiamo la possibilità di mettere in campo un certo numero di piattaforme tecnologiche diverse, che sono la fotonica, i MEMS, la fabbricazione CMOS, il trattamento delle superfici, in un modo coerente, coeso, in modo tale da poter funzionalizzare oggetti che comprendono tutte queste fabbricazioni sullo stesso dispositivo. Questo non è comunemente, non è facile da trovare in altri istituti, sia privati che pubblici, in quanto si tende effettivamente a specializzarsi su una di questi vari aspetti che ho citato. La capacità di mettere insieme queste tecnologie eterogenee sugli stessi dispositivi effettivamente è un punto di forza notevole per il centro CMM. Grazie a tutti.